Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi video dove rispondo alle vostre domande. Una domanda che mi è stata fatta a, se vuoi anche tu il tuo video richiesto e si dici al canale, metti un bel like e lascia un commentino qui sotto con il tuo video richiesta. Mi è stato chiesto come lasciare lasciare il profumo e in realtà c'è un trucchetto, uno solo, che funziona, ovvero, oltre a lavarsi chiaramente, è quello di evaporare, spruzzare su una spazzola il vostro profumo preferito e spazzolare i capelli. Non spruzzatelo direttamente sui capelli, se no si vanno a seccare, ma se voi prendete il vostro profumo preferito, ovviamente, perché è un profumo che poi rimane in modo persistente, quindi chiaramente deve piacervi, su una spazzola e poi andate a spazzolare i capelli, vi rimaranno i capelli profumatissimi e davvero quando passerete lascerete il profumo. Ecco, svelato il trucco. Spero di esservi stata utile. Ciao!